Questa è una facilissima frittata di bietole non fritta. Bietoline del contadino, ci prepariamo una facilissima frittata e non dovremo nemmeno girarla perché la faremo nel forno a microonde con il piatto crisp, ma potete pocerla anche in forno normale o fritta in panella. Togliamo le parti brutte e tagliamo proprio il fondo. Queste sono bellissime e quindi non hanno bisogno di grande pulizia. E le laviamo. Le sciacchiamo più volte, le mettiamo in pentola a pressione, due dita d'acqua e le sbollentiamo due minuti. Le affreddiamo con acqua fredda così mantengono un bel colore e strizziamo bene. Diamo una frittata con la mezzaluna alle nostre bietole. In una ciotola rompiamo le uova, foglioline di maggiorana fresche, latte, parmigiano, sale, pepe. Sbattiamo con una forchetta. Vi piacciono le frittate, le preparate, le friggete, le fate al forno, al microonde? Raccontatemi. E uniamo le bietole alle uova e mescogliamo. Si può fare anche con gli spinaci, con la scarola, con altre verdure cotte che vi piacciono, anche con i broccoli. Per cuocere il microonde con la funzione crisp ci vuole un apposito piatto che va leggermente unto. La cottura in microonde con funzione crisp è una cottura molto sana, leggera, quindi va benissimo per sostituire la frittura che invece chiaramente è più unta e anche più pesante. Travasiamo la nostra frittata. E via microonde con funzione crisp per 15 minuti. Se la cuocete nel forno normale, 180 gradi, statico per mezz'ora. In genere la funzione è rappresentata da questa icona, tipo grill sotto e le onde del microonde. Infatti è una funzione combinata, il calore del grill con le onde del microonde. Per questo ci vuole il piatto apposito, perché come sapete tutti i metalli non possono andare nel forno a microonde, se no si brucia tutto, invece questi sono fatti di materiali appositi per la doppia funzione. Guardate che meraviglia! Adesso la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Questa frittata è buonissima, servita, tagliata a quadrotti. Ottima, come secondo piatto servita con una bella insalata di verdure crude. Oppure anche come finger food per un aperitivo in piedi con gli amici o come antipasto insieme ad altre torte salate.